I medici di famiglia e pediatri di libera scelta soffocano sotto il peso della burocrazia legata alla pandemia e per denunciare il drammatico ridursi degli spazi per curare i clienti hanno dichiarato lo stato d'agitazione. In una nota congiunta delle principali associazioni di categoria spiegano gli insostenibili carichi di lavoro aggravati da procedure amministrative che sottraggono tempo all'assistenza, allo scarso sostegno dei sistemi sanitari, la mancanza di tutele contrattuali, tra le richieste avanzate e la protezione del ruolo svolto dai medici di medicina generale e la semplificazione delle procedure e dei percorsi amministrativi. Grazie